Buongiorno, siamo in compagnia di Mario Zampino che si occupa di produzione artigianale di liquori. Ci produciamo questi prodotti tipici calabresi, base liquidizia, base mannerino, del melone, del cioccolato, del cacao e peperoncino, con ottimi risultati, con buonissimi risultati. Perfetto, quindi i vostri obiettivi ora per il futuro quali sono? La crescita, anche se non è facile, ma comunque la crescita. Quindi anche esportare questo prodotto tipico italiano anche all'estero? Sarebbe indispensabile, sarebbe necessario, sempre che le istituzioni ci dessero una mano. Perfetto, grazie a tutti, a presto.